La casa del parco Geoparc di Carisolo è il museo dedicato alla geologia del parco Adamego Brenta. Qui, attraverso diorami, fedeli ricostruzioni e video multimediali, è possibile scoprire non solo le peculiarità geologiche del territorio, ma anche la sua formazione e i cambiamenti avvenuti nel tempo, così come la storia delle sue comunità. Grazie a tutti.